Trovo corrette le considerazioni di Maurizio ma alla fine della conclusione di tutto questo è punto di domanda, nel senso che una risposta non ce l'abbiamo nel momento, il punto critico è cosa fare e vorrei tornare sul tema iniziale in cui Alessandro facevi la considerazione del fatto quali sono i puri online, quali sono i fisico online, non è realmente un online eccetera. Io mi trovo su questo più d'accordo sulla visione di Marco e di Maurizio nel senso che chi è il pur online innanzitutto? Cioè quello che io trasmettevo come messaggio all'inizio del caso di Amazon non era per dire che l'online va sul fisico perché sul settore del gioco sta avvenendo in maniera molto molto in casi molto molto rari, cioè Bet365 per fare l'esempio che facevi non ha interesse ad andare sul fisico, ma perché non ha interesse ad andare sul fisico? Perché ha un modello di business incentrato sull'online puro, non ha conoscenza del fisico e fare fisico costa perché ci vuole know-how, ci vuole effort, ci vuole personale eccetera guardiamolo al contrario, chi fa fisico oggi ha interesse ed ha l'opportunità di fare l'online è il caso di dire ci vuole fisico per fare l'online, ma qual è l'opportunità che il fisico ha? è che grazie alla tecnologia può entrare in un modello molto più sofisticato di tracking del comportamento del giocatore al fine di soddisfare meglio le esigenze e anche ampliare il suo tipo di offerta. quindi quello che accadeva prima nel fisico è che il giocatore entrava in uno shop acquistando un ticket facciamo il caso della scommessa, riscuotendo le vincite e avendo la componente sociale di intrattenimento con altri oggi la componente sociale aumenta grazie al locale fisico rimane sempre lo stesso ma è molto più evoluto tecnologicamente, il giocatore ha più informazione e può avvalersi degli stessi strumenti a cui è abituato nell'ambito dell'online, quindi questo che cosa vuol dire? che teoricamente un giocatore online potrebbe avvicinarsi al fisico e giocare online da casa sua cioè l'evoluzione non è tanto che l'online nel fisico è un online per i fisici perché potrebbe diventare online puro, potrebbe diventare misto, potrebbe diventare convergenza ma il punto è dire, dato che per fare un online come veniva definito puro, alla Bet365 ci vogliono investimenti di branding importanti o bisogna essere un operatore con le spalle larghe al contrario chi ha già un consolidamento sul territorio e oggi specie in una situazione di incertezza e di allungamento dei tempi di risoluzione che dipendono dalla politica deve decidere cosa fare o trarre vantaggio da un presidio che ha e da target di consumatori che ha a disposizione per far evolvere l'esperienza di entertainment quindi mi sentirei di dire, esistono già modelli in altri paesi che stanno attuando questo esistono operatori a terra che sono andati verso l'online e sono tanti ci sono casi in Spagna, ci sono casi in Inghilterra e perché l'Italia non dovrebbe seguire questo modello? in fondo siamo, credo, abbastanza, al di là dei leader che sono partiti da terra dei tre leader che abbiamo in Italia, sono andati sull'online ci sono altri operatori che potrebbero avere questa potenzialità, perché non farlo? Certo Alessandro Grazie